Setena di Giacarei, Primo Giorno, Corona dell'Eucarestia Io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Nel primo mistero dell'Eucarestia contempliamo nostro Signore che nutre una folla di cinquemila persone. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle bestemmie e dell'indifferenza con cui Egli stesso è offeso. E vi chiedo, per i meriti del Santissimo Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, la conversione di tutti i poveri peccatori. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Sui grani piccoli Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Maria, Madre dell'Eucaristia, fai che ami tuo Figlio Gesù, presente nel Tabernacolo, Senza cessare notte e giorno, benedetto e lodato sempre sia il Santissimo Sacramento. Nel secondo mistero dell'Eucaristia si contempla Nostro Signore che promette l'Eucaristia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle bestemmie e dell'indifferenza con cui Egli stesso è offeso. Vi chiedo, per i meriti del Santissimo Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, la conversione di tutti i poveri peccatori. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Maria, Madre dell'Eucaristia, fai che ami tuo figlio Gesù, presente nel tabernacolo, senza cessare notte e giorno. Benedetto e lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo e Divinissimo Sacramento. Sangue, Sangue, Anima e Divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrileggi, delle bestemmie e dell'indifferenza con cui Egli stesso è offeso. E vi chiedo, per i meriti del Santissimo e vi chiedo, per i meriti del Santissimo Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, la conversione di tutti i poveri peccatori. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Maria, Madre dell'Eucaristia, fai che ami tuo Figlio Gesù, presente nel tabernacolo, senza cessare notte e giorno. Nel quarto mistero dell'Eucaristia, contempliamo nostro Signore, che istituisce la Santissima Eucaristia nell'ultima cena. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle bestemmie e dell'indifferenza con cui Egli stesso è offeso. E vi chiedo, per i meriti del Santissimo Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, la conversione di tutti i poveri peccatori. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Maria, Madre dell'Eucaristia, fai che ami tuo Figlio Gesù, presente nel tabernacolo, senza cessare notte e giorno. Benedetto e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo e Divinissimo e Divinissimo e Divinissimo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle bestemmie e dell'indifferenza con cui Egli stesso è offeso. E vi chiedo, per i meriti del Santissimo Cuore di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, la conversione di tutti i poveri peccatori. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento, attraverso Maria, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Maria, Madre dell'Eucaristia, fai che ami tuo Figlio Gesù, presente nel Tabernacolo, senza cessare notte e giorno. Benedetto e lodato sempre sia il Santissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.